5. Denti di ferro Sono sulla via olimpica, imbottigliato nel traffico, e sento un fruscio sul vetro. È una corona che pende da un carro funebre fermo accanto a me. Rimaniamo lì, io e il cadavere, lui con i piedi all'altezza della mia testa. Ma forse se potesse parlare mi direbbe, non ti sei stancato di non rispondere al telefono per guadagnare qualche minuto? Non ti sei accorto che l'ansia zanna con denti di ferro tutte le possibilità che hai di vivere meglio? Perché non la fermi? Non vedi che fine farai? Non hai capito che nel mondo dei tuoi affari nessuno ti domanda chi sei, ma quanto sei? Eppure il chiasso del tuo lavoro scivola inesorabilmente verso di me. Ma il morto non parla, e io sfilo accanto a lui, scegliendo la fila che scorre di più. Commento Chi passa davanti a un morto e scivola via senza approfittare del messaggio evolutivo che quel cadavere può dargli, vive quella situazione come un fotogramma lato. Chi invece ne trae motivo per riflettere sul significato dell'esistere, vive quella situazione come un fotogramma retto. Perché quella serie di fotogrammi, che noi chiamiamo funerale, produce nel suo intimo un ampliamento, contribuisce cioè alla costituzione della sua coscienza. E attenzione della sua coscienza. E attenzione della sua coscienza. E attenzione della sua coscienza. Grazie a tutti.